Arriva dalla pagina Facebook del Comitato Pendolari-Valdarno Direttissima la notizia dell'ennesima lettera di protesta, la prima del 2014, indirizzata all'assessore regionale Trasporti Vincenzo Ceccarelli. Secondo quanto denunciato dal Comitato, il Vivalto 6604 è stato letteralmente preso d'assalto alla stazione di Figline con un conseguente sovraffollamento. Il motivo sta negli ennesimi ritardi accumulati dagli altri convogli, come i 20 minuti per il regionale 3164, l'11682 in ritardo a San Giovanni Valdarno e l'elenco si allunga facilmente. Nella pagina Facebook ci sono foto e commenti che non lasciano spazio alla fantasia. Una situazione che il portavoce Maurizio D'Arè riporta dettagliatamente nella lettera inviata all'assessore regionale. Nella missiva si chiede anche la convocazione, promessa e mai fissata, dei comitati per un confronto tecnico regione pendolari. Un appuntamento atteso per definire le problematiche delle singole linee e tratte, per l'approfondimento delle esigenze specifiche e per la ricerca di possibili soluzioni. E a proposito di soluzioni ce n'è una già pronta, la proposta di una fermata speciale a Figline del diretto 3168, chiusi a Rezzo, Firenze. Dopo la concessione di nuove fermate nella Valdichiana, anche il Valdarno dunque rivendica il suo regalo di Natale, seppur in ritardo sarebbe comunque molto gradito.